Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dedicata all'estrazione del Super Enalotto. Chi possiede oggi la ricevuta della giocata del Super Enalotto può vincere 15.407.002 euro. Sono già iniziate le operazioni relative al concorso numero 68. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente del numero jolly sono state caricate. Ed ora con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo il via all'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo a scoprire insieme il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 34. Proseguiamo con il secondo numero di questa sera. Il secondo numero estratto è il numero 57. Dal terzo numero si inizia a vincere. Il terzo numero estratto è il numero 24. E aspettiamo il quarto numero che ci porta verso premi importanti. Il quarto numero estratto è il numero 41. Quinto e penultimo numero. Il quinto numero estratto è il numero 40. E con il sesto numero si completa la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 16. Abbiamo ora i sei numeri che possono segnare il jackpot. Passiamo quindi all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. E il numero jolly di questa sera è il numero 13. E controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly. 34, 57, 24, 41, 40, 16, numero jolly 13. Ed ora passiamo al numero superstar. E' il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della convalida della giocata può far vincere premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro. La sua estrazione avverrà grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che il numero superstar premia anche lo 0, l'1 e il 2 e moltiplica 25 volte le vincite del 5 e 100 volte quelle del 4 e del 3. E il numero superstar di questa sera è il numero 89. E ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 68 del superenalotto con la sestina vincente in ordine crescente. 16, 24, 34, 40, 41, 57, numero jolly 13, numero superstar 89. E l'estrazione di oggi, sabato 6 giugno, è terminata. Tra pochi minuti scopriremo insieme se il jackpot di oltre 15.400.000 euro è stato assegnato ad uno più vincitori. Io vi aspetto sempre qui su Sisa TV, l'arte in diretta con la fortuna. Ben ritrovati qui su Sisa TV, l'arte in diretta con la fortuna. Poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso numero 68, che vi ricordo ha messo in paglio il jackpot di oltre 15.400.000 euro. E anche questa sera il superenalotto ha per voi numerosissimi premi. Abbiamo infatti 61.401 vincite. Ma è il momento di scoprire insieme se questa sera ci sono uno o più vincitori del jackpot. E il computer ci comunica che non è stato realizzato il 6 né il 5 più 1. I 5 sono 3 e vincono 76.703 euro ciascuno. I 4 sono 481 e vincono 483 euro ciascuno. I 3 sono 21.523 e vincono 21 euro ciascuno. Ed ora passiamo al superstar. Il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 e premia anche con 0, 1 e 2 punti. Ed ora vediamo nel dettaglio tutte le quote. Nessun 5 stella. I 4 stella sono 6 e vincono 48.333 euro ciascuno. I 3 stella sono 118 e vincono 2.149 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 1.606 2 stella. 10 euro vanno agli 11.314 1 stella. 5 euro vanno ai 26.350 0 stella. Ed ora andiamo insieme a scoprire il jackpot del prossimo concorso. 15.800.000 euro! Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Il Super in allotto vi dà appuntamento a martedì 9 giugno sempre qui su Sisa TV. La rete in diretta con la fortuna! La rete in allotto vi dà appuntamento a martedì 9 giugno sempre qui su Sisa TV.